Siamo qui con Luisa Morgantini del coordinamento nazionale associazione per la pace, tale fondatrice delle donne in nero e ex vicepresidente del Parlamento europeo e analizzeremo le tematiche palestinesi, quali la situazione della flottiglia e simili, anche cercando di capire le prospettive futura. Che cosa ha originato l'atteggiamento e l'attitudine della Grecia rispetto al flottiglia e di fronte a questo scenario quali sono le prospettive della missione umanitaria? Il Papa Andreu è una grande delusione, come Obama in fondo, in realtà il timore di atteggiamenti complessi da parte della comunità internazionale, una non adesione, io credo, una non volontà di far rispettare ad Israele il diritto internazionale. Sono gli israeliani che vivono il diritto internazionale, non la flottiglia umanitaria. Sono gli israeliani che tengono prigionieri dentro una striscia di 40 km, un milione e mezzo di persone, facendo, come dice un nostro amico palestinese, uno zoo, aprono ogni tanto i cancelli, buttano un pezzo di carne e pensano che i palestinesi possano vivere. Quindi chi è nella illegalità è Israele, costantemente nella illegalità. E quindi i governi europei, i governi del mondo non hanno il coraggio, in realtà alcuni perché sono molto lontani, alcuni perché sono ipocriti, non hanno il coraggio di affermare questo, che il diritto dei palestinesi è quello di vivere sulla loro terra, che non ci può essere assedio militare e che quello che stanno facendo la flottiglia umanitaria internazionale è quello esattamente di fare ciò che dovrebbero in realtà fare le Nazioni Unite, passare attraverso impedire che ci sia la chiusura di Erez, dove i palestinesi non possono passare, ci sia la chiusura di Rafa, ci sia la libertà di movimento e la libertà dall'occupazione per i palestinesi. Quindi molto grave l'atteggiamento del governo greco che non ha osato ergersi a difensore dei diritti. Parlando di scenari politici, come vede l'accordo tra Hamas e Fatah e anche il cambiamento di attitudine di un paese come l'Egitto, che con Mubarak aveva attuato sempre un certo stile di politica nei confronti della questione palestinese, questo può essere spia di sviluppi positivi anche di fronte al voto dell'Assemblea delle Nazioni Unite a settembre? Io credo che la situazione in Egitto sia ancora molto molto complessa. è una grande e straordinaria cosa che Mubarak è un regime che si è scomparso attraverso una lotta popolare non violenta come quella di Terry Square, ma non solo di Terry Square, anche in tutti gli altri settori, quindi è fantastico. Però non è ancora completamente definita la situazione in Egitto, anche se è cambiata la stabilità di Mubarak non c'è più e non c'è dubbio che per esempio la fine di Mubarak, così come la crisi totale del regime siriano abbia favorito la possibilità di riconciliazione da parte di Fatah Hamas, perché non c'è dubbio che Mubarak sosteneva di più la politica dell'OLP e la Siria ha sempre sostenuto il fronte del no. Quindi è un elemento che ha condizionato favorevolmente e positivamente i due. L'altra questione fondamentale è stata anche la richiesta dei giovani palestinesi, che sono stati anche loro influenzati dalla primavera araba e hanno rivendicato, anche noi dobbiamo cominciare da noi stessi, quindi unità, e hanno chiesto attraverso i scioperi della fame, sia a Gaza che a Ramallah, hanno chiesto alle forze politiche di unirsi. Quindi un fatto positivo, speriamo che abbiano la capacità, la forza di andare avanti, perché una Palestina unita è fondamentale, ma il problema della Palestina non è soltanto la situazione interna che si è ripresa in questo modo, anche se ancora non sono tratti gli accordi definitivi, il problema della Palestina è il problema della comunità internazionale che continua ad avere una lingua biforcuta. Da una parte dice due popoli, due stati, dall'altra però non fa nulla concretamente per far sì che i palestinesi abbiano un loro stato. Per esempio continua l'occupazione militare, continua il furto delle terre palestinesi, gli insediamenti crescono, c'è stato anche un cambiamento di atteggiamento però che è molto positivo da parte anche della leadership palestinese, non denunciano più soltanto il fatto che gli israeliani rubano le terre, ammazzono i palestinesi e continuano una politica di colonizzazione di a parte con il muro, dicono con molta forza alla comunità internazionale dovete essere coerenti e iniziano a fare pratiche come quella per esempio della campagna Kerama Dignità o della campagna Prosper Palestine concretamente per colpire l'economia di colonizzazione, l'economia delle colonie. Io penso che noi dovremmo fare molto per questo proprio perché dobbiamo rompere i legami che favoriscono la colonizzazione dei territori. Quindi una situazione fluttuante però è in qualche modo positiva, è positiva perché appunto c'è il cambiamento che diceva lei dell'Egitto, c'è anche una nuova coscienza in Palestina, c'è un'increscita, un movimento popolare di resistenza non violenta che lo si si vede nei villaggi di Belain, Massa, Ranalin, Nabissale, Tuvas, Al-Walaj e tanti altri dove la gente, i palestinesi insieme a israeliani internazionali resistono e dicono che l'occupazione uccide tutti e tutti, che dobbiamo fare la finta con l'occupazione e soprattutto distruggere questo muro che è un muro di a parte ed un muro che ha confiscato nuova terra ai palestinesi. Quindi ci sono delle situazioni in movimento ma certo che la soluzione non può essere tra palestinesi e israeliani, c'è una disparità assoluta di potere e di rapporti di forza, da una parte c'è un paese occupante, dall'altra c'è un paese occupato, la responsabilità è sulle spalle della comunità internazionale che invece continua una politica appunto di lingua e di forza. Uno degli argomenti usati con maggior forza dalle leadership israeliane è sempre stato quello che nessuna forma di resistenza palestinese poteva essere non violenta, cosa, argomento fallace chiaramente. Di fronte a esempi come Prosper Palestine ad esempio, è possibile che le opinioni pubbliche mondiali cambino il loro atteggiamento cercando poi di influenzare in questo modo anche i loro governi? Io penso di sì, penso anche per esempio dal momento in cui sono cessate anche gli attacchi contro la popolazione civile israeliana da parte di Hamas o di altri gruppi estremisti palestinesi. È cresciuta nel mondo una solidarietà attiva, sono cresciute le campagne per la BDS, per il disinvestimento, le sanzioni anche verso Israele. È cresciuta anche dopo le operazioni tragiche, terribili e criminali che sono state commesse con l'operazione più un bufuso a Gaza. È cresciuta una consapevolezza tra la popolazione del diritto dei palestinesi. Il lavoro fatto dai media è stato devastante, dai media internazionali, italiani in modo particolare, perché i palestinesi erano solo quelli con la cuffia che sparavano operari oppure che urlavano mascherati. Un'immagine assolutamente falsa di quella che è la Palestina, nel senso che la Palestina non solo adesso fa resistenza non violenta, ma anche nel 1936, prima che ci fosse la dichiarazione dello Stato di Israele, i palestinesi usavano forme di resistenza non violenta. È straordinaria la resistenza pacifica non violenta che qualche milione di palestinesi fa quotidianamente resistendo all'occupazione militare, dovendo superare il checkpoint, in una situazione di totale libertà. In realtà le forme di resistenza non violenta sono state sempre. Nella prima intifada ricordo Bezaur, la disobbedienza civile, il rifiuto del pagare le tasse ad Israele, il rifiuto di avere una carta di identità israeliana vuol dire che sono palestinese e voglio essere palestinese, tutte ovviamente represse, così come adesso Israele sta reprimendo fortemente la resistenza popolare non violenta che si fa nei villaggi di Belain. Ogni venerdì quando i ragazzi palestinesi, israeliani, internazionali vanno davanti al muro per dire via questo muro di oppressione di a parte, la reazione israeliana dei soldati è quella di tirare gas lacrimogeni, acqua puzzolente, ma di sparare. Sono anche morti molti a Nelain, a Belain, per fare forme di resistenza non violenta. Quindi Israele ha più paura del coraggio della non violenza che non di qualcuno che spara e ammazza civili israeliani oppure anche soldati israeliani. Ha più paura perché non c'è dubbio che nel mondo cresce la solidarietà con una forma di resistenza non violenta che però rivendica fortemente i propri diritti. Quindi è straordinaria, sì, io penso che davvero queste nuove forme come anche la resistenza fatta con Al-Qarame, fatta con Parastro del Palestino, ma anche io penso alle centinaia e centinaia di organizzazioni in Palestina, per esempio, che si preoccupano della conservazione del patrimonio culturale, dell'architettura, alla creatività dei palestinesi che sono artisti, poeti, pittori. È un popolo composito straordinario che malgrado l'occupazione israeliana riesce a creare, a pensare, a agire. Io ogni volta che vado in Palestina dico come fanno? Come fanno a essere così straordinari? Come fanno? Basta pensare a Gaza. Non so se, mi auguro che la gente veda, c'è questo gruppo che si chiama Dark Team, che sono giovani che vivono a Gaza sotto un'oppressione anche di Hamas, perché si sa che Hamas da un punto di vista sociale non ama molto le espressioni, diciamo, della gioventù. Dark Team è una banda di rap di Gaza che fa musica straordinaria e ha fatto, e vi invito a vederlo su YouTube, ha fatto una canzone dedicata a Vittorio Arrigoni che si chiama Honnedi Kum, bellissima, straordinaria. E voi dite, ecco, questi ragazzi, queste ragazze, perché sono donne e uomini che vivono sotto occupazione militare, che non riescono a uscire da Gaza, che vincono borse di studio straordinarie in Germania e negli Stati Uniti, non possono muoversi da Gaza perché la barriera imposta da Israele impedisce di uscire da Gaza, eppure sono lì e creano, creano. Pittori straordinari da Gaza, Mohamed Joe, che ha dovuto fuggire, che è scappato. Creatività e resistenza, già resistenza non violenta, per esempio, alzarsi ogni mattino e dire, devo passare quel checkpoint, vedere quel soldato che magari non è nato neanche in Israele, che magari arriva da Brooklyn e che gli punta il fucile contro e gli dice fammi vedere la tua carta d'identità sulla sua terra, già questa è una grande forma di resistenza non violenta. Quindi io penso di sì che queste forme, farle conoscere soprattutto è fondamentale, bisogna distruggere gli stereotipi che anche i media hanno creato rispetto a chi sono i palestinesi. Ecco chi sono i palestinesi, persone come Aytam, persone come Suad Ameri, persone come Mohamed, che ogni giorno resiste e piange perché i suoi alberi di olivo sono stati sradicati, perché? Per far posto a un muro che divide non palestinesi da israeliani, ma che divide i palestinesi, che rubano le terre palestinesi. Quindi è straordinaria questa è la loro forma, bisogna conoscere la Palestina e i palestinesi e quegli israeliani che sono straordinari anche loro perché lottano insieme ai palestinesi per dire che i diritti non sono per qualcuno, i diritti sono per tutti e per tutti altrimenti non sono per nessuno. Parlando di Gaza e di Vittorio Arrigoni, qual è la sua eredità e come noi tutti possiamo raccoglierla in qualche modo? Vittorio ha dedicato il suo pezzo di vita alla giustizia, alla libertà e ai diritti. Ha segnato fortemente la sua uccisione, il suo assassino fatto da mani di palestinesi, indipendentemente da chi poteva dirigere le operazioni, erano palestinesi, ha colpito tantissimo i palestinesi, non c'era palestinesi, io stavo in Palestina con un gruppo di italiani durante, purtroppo quando Vittorio fu ucciso e non c'era palestinese che non ci fermasse per dire non siamo noi, anche se è stato qualche mano palestinese non siamo noi, noi vi vogliamo qui, vi vogliamo con noi, quello che faceva Vittorio era straordinario. Io credo che Vittorio lasci a tutti noi la sua grande forza, determinazione, il suo amore per la giustizia, per la verità, credo che dobbiamo portare avanti davvero con il suo nome e per noi, perché anch'io penso da sempre che la giustizia, la verità siano fondamentali, che valga la pena vivere per questo e non per successi o per altre cose, quindi Vittorio rimarrà sempre con noi.